Effetti indesiderati dell'aspirina, la compressa, avete presente quella con la vitamina C? Bene, effetti sul sangue, prolungamento del tempo di sanguinamento, anemia da sanguinamento gastrointestinale, riduzione delle piastrine, tombocitopemia in casi estremamente rari. A seguito di emorragia può manifestarsi anemia acuta e cronica post-emorragica da carenza di ferro, dovuta per esempio a microemorragie occulte, con le relative alterazioni dei parametri di laboratorio, relativi segni e sintomi clinici come astenia, pallore, ipoperfusione, effetti sul sistema nervoso, mal di testa a capogiro, raramente può manifestarsi. Sindrome di Rai, una malattia acuta a carico del cervello e del fegato potenzialmente fatale che colpisce quasi esclusivamente i bambini. Da raramente a molto raramente può manifestarsi emorragia cerebrale, specialmente in pazienti con ipertensione non controllata e o in terapia con anticoagulanti, che in casi isolati può essere potenzialmente letale. Effetti sull'orecchio, timnito, ronzio, fruscio, tintinnio, fischio nell'orecchio. Effetti sull'apparato respiratorio, sindrome asmatica, rinite, congestione nasale, epistassi. Effetti sul cuore, distress cardiorespiratorio, grave, acuta insufficienza respiratoria, associata a relazioni allergiche. Effetti sull'occhio, congiuntivite. Effetti sull'apparato gastrointestinale, sanguinamento gastrointestinale, disturbi gastici, pirosi, dolore gastrointestinale, gengivorragia, vomito, diarrea, nausea, dolore, addominale, crampiforme. Raramente possono manifestarsi infiammazione gastrointestinale, erosione gastrointestinale, ulcerazione gastrointestinale, ematemesi, vomito di sangue, melena, emissione di feci nere, esofagite. Molto raramente può manifestarsi ulceria gastrointestinale, morragiche, perforazione gastrointestinale, con i relativi segni e sintomi clinici ed alterazione dei parametri di laboratorio. Effetti sul fegato, raramente epatotossicità, che si manifesta con aumento delle transaminasi. Effetti sulla pelle, eruzione cotanea, edema, orticaria, purrito, eritema, angioedema. Sui reni, sulle vie urinarie, alterazione della funzione renale, sanguinamenti urogenitali. Sull'organismo in toto, emorragie, perioperatori. Ematomi, effetti sul sistema immunitario, shock anafilattico. Grave reazione allergica potenzialmente letale, con le relative alterazioni dei parametri di laboratorio e manifestazioni cliniche. L'aspirina, l'aspirina C. Ecco, questo, tanto per avere le proporzioni, perché sono importanti le proporzioni per costruire un pensiero ampio. Buon mercoledì.